Chi è? Signora, sono del salumiere? Ssss! Che cosa? Signora? Signora, buongiorno. Sì? Accomodatevi. No, signora, veramente, ho un po' di fretta, mi aspetto un must. Entrate un po'. No, signora, tengo le clienti che mi aspettano. Per il conto non vi preoccupate, passate voi per la salumiere. Posatemelo dentro? Sì, ma posso qui per avanti, signora, arrivederci. Venite un po'. Per quanto passate per la salumeria? Cinque minuti. Ma che presto, signora? Cos'è che credo? Cinque minuti. Vai, arrivederci, signora. Arrivederci, arrivederci. Ah, che peccato. Chi è? Signora, con il salumiere? Oh, il salumiere. Buongiorno. Avanti. Signora, la Coca Cola. Guardatemi un po'. Eh, la Coca Cola se me ne devo andare. Entrate. Signora, non posso entrare? Mi aspetta un po'. Vanno a rogarmi, signora. Entrate. Portatemi un po'. Signora, mette la Coca Cola a te. È venito un po' con te. Signora, mi lascia io, arrivederci. No. Arrivederci. No. Che peccato. No. Eh. hai compilato o no, frangatino? Ma pure ci fa chi? Eh. E chi fa una brutta figura, frangatino? Che faccio con il salmone? Fa così. Ma faccio traggiare tutta cosa a fu. A quello che ne vede me. Eh, pure frangatino non so. Tu riapri. Chi è? Il salumiere. Ehe. Ehi. Buongiorno. Ehi. Ai tu che fa due tu? Ehe. Ehi. Ali Tomas. Tu vado daù la ciavi pojawi? Par involvede? Svegli una Galicia operazione. Purtato.